Il tuo fratello o il tuo amante? Ma lo sai che in realtà io non sono contro l'incesto? Perché io credo che il fatto che le persone trattino l'incesto come un tabù io assolutamente lo vedo come una cosa che va normalizzata e anzi io credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l'incesto sia ancora visto come un tabù. Parlare di incesto potrebbe portare una rivoluzione dal punto di vista sessuale. Cioè il fatto che desti così tanto disgusto è perché si ha una certa idea di sesso che ovviamente non si può approfondire in pochi secondi. Ci voglio fare un corto sull'incesto, poi io vorrei anche scriverci delle cose interessanti e quindi vorrei espandere il perché noi troviamo, si potrebbe dire, scandaloso avere un certo tipo di rapporto con una figura della nostra famiglia piuttosto che ok, piuttosto che accettabile con una persona esterna. Quando il re tornerà dalla caccia gli racconterò la verità. Nel frattempo te ne sarai andata con tutti i tuoi figli. Questo discorso è totalizzante e potrebbe non essere adatto all'argomento di cui stiamo discorrendo. Sei provato?